Musica Benvenuti al nostro TG Sport cari amici di Telemolise. Vogliamo in apertura fare una comunicazione per i nostri telespettatori nel Lazio. Infatti da ieri Telemolise è visibile sul canale 880. Ricorderete che prima, fino a qualche giorno fa, c'era il canale 749 che comunque aveva dato anche dei problemi. Per cui grazie al nostro editore Quintino Pallante abbiamo sistemato anche questa vicenda di Roma e del Lazio intero. Quindi il canale di riferimento è il canale 880 della piattaforma digitale terrestre, dove naturalmente potrete seguire tutta la programmazione della nostra emittente. Io vi consiglio di seguire tutta la programmazione, in particolare chiaramente la programmazione sportiva. Campionato di Serie D riprendono oggi gli allenamenti del Campobasso dopo il pari interno contro il San Nicolò. I Rosso Plum mantengono alta la concentrazione in vista della trasferta di Fermo. Ripresa degli allenamenti per il Campobasso, archiviato il pareggio contro il San Nicolò, Mister Favo è pronto ad iniziare la preparazione per la complicata trasferta di Fermo. Domenica scorsa i Lupi hanno giocato un buon match, cercando di ottenere l'intero bottino in palio contro un ottimo avversario. Il pareggio al termine dei 90 di gioco ha premiato la voglia di entrambe le compagini che si sono equivalze su più fronti. Di certo la gara contro i Terramani lascia qualche scoria dal punto di vista fisico. Il centrocampista Lanzillotta è uscito per un problema muscolare. Stessa sorte per Aquino, si registrano noie anche per l'esterno offensivo Alessandro. Se consideriamo l'infortunio di Gattari e ancora le prese con il problema alla caviglia, ecco che Favo ha ben di che preoccuparsi in vista della trasferta in terra marchigiana. Il capitano quasi sicuramente sarà out anche a Fermo, con l'auspicio di recuperare almeno qualcuno in condizioni precarie. Come detto Fermana in salute, nelle ultime sette gare, cinque vittorie, un pareggio, una sconfitta per gli uomini di Osvaldo Iaconi, che sono risaliti in graduatoria dopo una leggera crisi. I risultati dell'ultimo periodo valgono attualmente il sesto posto a meno tre, proprio dal Campobasso e dal San Nicolo. Domenica e Giallo Blu hanno sconfitto l'Avezzano grazie ad una doppietta dell'ex termoli Luca Cremona. Per quel che riguarda il campionato, Matelica e Fano in extra time, oltre il novantesimo, hanno sconfitto rispettivamente Re Canatese e Damiternina. Domenica prossima, big match San Benedettese e Fano, sicuramente un'occasione utile alla capolista per estromettere definitivamente dai giochi proprio Sibilla e compagni. Capitolo Juniores, ieri pomeriggio la squadra rosso-blu guidata da Carmine Rienzo ha espugnato il campo di Avezzano con il punteggio di 0 a 4, reti di Marra, Moffa, Antoniani e Bomber, Perrella. I lupetti consolidano il primato in classifica con sette punti di vantaggio sul Matelica. A proposito della squadra, della prima squadra, sentiamo il difensore Ferrani nel post-gara di domenica. Finisce 1-1 tra Campobasso e San Nicolò, partiamo dal gol del San Nicolò. Che cosa è successo lì in difesa? Ci sono stati tre colpi di testa consecutivi prima del gol di Bucchi. C'è stato un blocco e quando ha colpito di testa poi c'è stato un gran mischione, siamo andati lì il più possibile ma non ce l'abbiamo fatta tirarla fuori. Non so nemmeno in che modo Bucchi abbia fatto qua perché ero a terra, siamo scontrati un po' tutti. E niente, è peccato perché quel gol a freddo sicuramente ha cambiato un po' le sorti della gara. Reazione immediata, poi si è visto un primo tempo bellissimo nel quale sia voi che il San Nicolò non vi siete risparmiati nella ripresa in qualche misura ha pesato l'uscita dal campo di Lanzilotta per voi. Sì, sicuramente Lanzilotta ci ha tolto un po' di qualità lì in mezzo, di tempi, però penso che comunque chi sia entrato abbia fatto altrettanto bene perché Bontà da mezz'alla ha fatto benissimo e Rinaldi comunque quel ruolo lì lo sa fare, l'ha già fatto anche in passato, quindi non penso che sia stato dovuto a un cambio di giocatore ma più a magari la fatica in un campo pesante dove si faceva fatica anche a giocare. Rincuorati da una curva, dobbiamo dire, finalmente gremita. Sì, sì, sono felice che la gente sia tornata un po' allo stadio e comunque devo dire anche che nelle ultime partite ci hanno sempre sostenuto, anche quando abbiamo perso a San Benedetto siamo usciti comunque tra gli applausi e questo fa un enorme piacere. Poi è normale che qualche tempo fa c'era delusione e quindi abbiamo anche accettato le critiche, però adesso c'è stato un cambio di rotta e si spera di poter finire al meglio. Tre pareggi consecutivi per Lisernia, tutti a rete inviolate, non arrivano gol dall'attacco bianco celeste ma è pur vero che non subire reiti è un segnale positivo per il team di Pierluigi De Bellis, formazione in campo per preparare la trasferta di Recanati. A proposito della squadra, il portiere Schina. Marco Schina, un derby non brillante contro l'Olimpia aglionese, però di positivo c'è che portate a casa un punto e siete a quattro risultati utili consecutivi. Siamo amareggiati anche perché comunque non c'è da nascondersi che il nostro scopo era vincere questa partita, non ci siamo riusciti, comunque queste partite capitano e dobbiamo andare avanti e sperando che nella prossima partita faremo un risultato positivo. In tutto il match una vera occasione da gol da parte dell'Agnone, ma la tua pronta reazione ha permesso di portare a casa questo pareggio? Io penso, come dico sempre, che è fortuna perché comunque l'attaccante là deve fare gol, comunque noi ci alleniamo bene e quindi ci alleniamo per questo, il portiere serve per parare. E quindi hai fatto bene il tuo dovere? Sì, per adesso sì, andiamo avanti e vediamo. E si pensa già a Recanati, insomma, un giorno di pausa e poi già con la testa per la trasferta di Recanati? Se andremo là decisi, come facciamo sempre ogni partita, ce ne andiamo a giocare anche lì. Intanto proseguono le iniziative sociali dell'Isernia Football Club, che domani a partire dalle 19 sarà impegnata in un incontro aperto a tutti gli sportivi presso la clinica Odonto Salute di Isernia, uno dei principali sponsor della compagine bianco-celeste. Il dottor Fabio Biscetti terrà una lezione sull'importanza della prevenzione mediante l'uso del paradenti sportivo al fine di evitare traumi. La scelta di sposare questa campagna nasce dall'infortunio subito da Tuccia, che durante un'azione di gioco circa un mese fa ha riportato un grave trauma dentale. Ancora uno scontro diretto in chiave salvezza per l'Olimpia agnonese, reduce dal pari di Isernia, domenica al Civitelle, arriva il Castelfidardo in lotta per uscire dalla zona play-out, mentre i Granata devono abbandonare l'ultimo posto condiviso con il Giulianova. Calcio a 5 di Serie B, questo fine settimana pausa del torneo per una sosta prevista. L'Isernia sabato ha ospitato la Capitolina Marconi, che apre la classifica ai nostri microfoni il tecnico dei Laziali. Paolo Minigucci, allenatore della Capitolina Marconi, insomma ci tocca commentare questa bella vittoria su un campo sicuramente non facile, è una partita abbastanza dai due volti. Diciamo che le dimensioni del campo portano la partita sicuramente su questi termini, molto viva, molto accesa, molto di contatto, tante conclusioni, tante ripartenze. Faccio i complimenti per tutto a L'Isernia, perché è una squadra che ricordavo già dall'andata molto solida, molto forte, e oggi ha confermato tutto quello di buono che sta facendo durante la stagione. Sapevamo che qui sarebbe stata difficile di più, difficilissima. Il 2-0 iniziale probabilmente ha fatto pensare ai ragazzi che la partita si mettesse su certi binari, ma in questo sport non è mai così, con certi avversari non è mai così. Loro hanno reagito no, bene, benissimo. Per 4-5 minuti non c'è stata sinceramente partita, e poi dopo la partita si è messa su dei binari abbastanza equilibrati. Noi siamo stati bravi a non mollare, a continuare a giocare, e poi la partita quando metti il portiere in movimento può capitare di tutto. Da parte della Capitolina comunque si sta vivendo una bella favola, già che l'obiettivo stagionale dichiarato era quello della salvezza. Sì, diciamo che questa è una squadra che nasce con determinate caratteristiche, poi devo dire che la disponibilità del gruppo, il buon lavoro che stiamo facendo, poi sta portando dei buoni risultati sul campo. Quindi noi come sempre, come ho sempre detto, giochiamo partita per partita, giornata per giornata, ovviamente stiamo in questa condizione di classifica di campionato, non nascondiamo che vogliamo tirare dritti fino alla fine. Calcio d'eccellenza in campo domani per recuperare la terza di ritorno. Campa tesa Bastogiratti, il fischio d'inizio verrà dato alle 15 dal signor Andreano di Foggia. La gliternina reduce dalla sconfitta con il Penapro. Sabato sarà ospite del Campo Basso 19. Ne abbiamo parlato con Tarantino. Tarantino, grande partito, hai difeso, hai combattuto su ogni pallone, hai cercato di alzare il baricentro nella tua squadra, siete stati sfortunati. Nel momento forse vostro migliori avete preso quel gol che poi vi ha tagliato le gambe. È la stagione, è una stagione iniziata male, ne sta finendo male, purtroppo è così. Io facendo tanti campionati ho capito che è così, quando inizia male finisce male, quando inizia bene finisce bene. Abbiamo fatto due errori in ripartenza e abbiamo preso due gol. Abbiamo avuto quattro occasioni e non si è ficcata la palla, è stato bravo anche il loro partire. Proprio perché sei esperto adesso ti assumo il tuo, delle responsabilità importanti, tenere il gruppo unito e compatto e crederci in questa salvezza. Ora è importante stare uniti, per forza, è solo quella l'unica speranza. Ormai dobbiamo vincere i sconti retti e dobbiamo sperare di fare due o tre risultati utili, consecutivi. Venafro, bella squadra, terza in classifica, però vi siete tolti le squadre che stanno più in alto in gradatori. Sì, ma noi abbiamo fatto delle belle partite anche con quelle che stanno su. Con Monti Daunio domenica scorsa il risultato è bugiardo e purtroppo stiamo sempre a dire le stesse cose. Il risultato è quello che conta e non riusciamo a fare i punti. Sabato a Campobasso, partita delicata, importante e anche cruciale per la salvezza. Abbiamo due squalificati importanti, dobbiamo fare gruppo, come hai detto tu, dobbiamo fare gruppo. Per forza, dobbiamo unirci e vederne di uscire. Questo fine settimana al centro M2 di Campo di Pietra è in programma il sesto trofeo M2, meeting nazionale di nuoto aperto alle categorie sordienti A e B, ragazzi, uniores ed assoluti, cadetti e seniores. La conferenza stampa di presentazione è in programma domani alle 16.30. Torniamo a parlare di calcio, del campionato di promozione. Dopo aver strappato i tre punti alla vicecapolista Campo di Pietra, il petacciato nel prossimo turno ospiterà la Santeliana. Ne abbiamo parlato con Casalanguida. Vito Casalanguida, attaccante del petacciato, autore della doppietta che ha steso il Campo di Pietra. Una vittoria pesantissima che vi rilancia alla grande in zona salvezza. Sì, è una vittoria importante soprattutto per il morale di questa squadra. Lavoriamo tanto, quindi il giusto premio per tante settimane di sacrifici e siamo contenti anche per questo. Avete approcciato in maniera ottimale al match senza timore reverenziale verso il Campo di Pietra. Poi nel secondo tempo, nonostante il parigio subito, siete stati cinici a fare il gol vittore nel finale proprio dai tuoi piedi. Sì, sapevamo che venire qui sarebbe stata dura, quindi dovevamo dare tutto quello che avevamo in corpo e siamo riusciti a ottenere tre punti davvero importanti che fanno morale e soprattutto classifica. Una squadra molto giovane che adesso potrà beneficiare dal punto di vista morale di questo successo. Adesso c'è la Santeliana che domenica verrà a farvi visita. Sì, adesso abbiamo tutte finali, dobbiamo impegnarci ancora di più. Non sappiamo che non abbiamo fatto niente, è una vittoria che fa morale, come ho già detto. Speriamo di fare altri punti, ma noi ce la metteremo tutta per salvare questa squadra. La telecronaca di Campo di Pietra Petacciato entra in onda oggi alle 17 su Telemolise 2, alle 20.30 su Telemolise Sport. Lo Spinete farà visita al Real Prata in palio punti per abbandonare la zona play-out per il team matesino Gianni Roberto. Savino Gianni Roberto, arrivato questo 1-1 contro il Torre Maiano, una partita equilibrata dove voi avete avuto le occasioni per vincere così come anche loro. Penso che alla fine forse tutto sommato il pareggio ci sta. Sì, sì, per quello che ha detto il campo il pareggio è giusto. Potevamo vincere noi, potevano vincere loro. Il primo che avrebbe sbagliato avrebbe condizionato la partita. Dispiace perché per noi queste partite sono fondamentali, sono scontri diretti per la salvezza in casa e dobbiamo cercare di fare di più. Pareggio col Castel Mauro, sconfitto a San Martino. Pareggio oggi erano partite dove alla vigilia voi vi ospicavate qualcosa di diverso. Esatto, quello che volevo dire. Purtroppo questi, soprattutto le due in casa, Castel Mauro e la partita di oggi, per noi che dobbiamo salvarci sono punti fondamentali e continuiamo a seminarli per strada. Senti, che si è inceppato rispetto all'anno scorso? Perché questa comunque era una squadra che, soprattutto in casa, faceva valere il suo potenziale e in trasferta comunque otteneva bei risultati. La rosa mi sembra che sia quasi invariata, però qualcosa non funziona. Questa è una bella domanda a cui dobbiamo riuscire al più presto a dare una risposta perché andando avanti così diventa difficile. Abbiamo avuto un periodo molto difficile dal punto di vista degli infortuni. Infatti siamo dovuti ricorrere pochi giorni fa ad un nuovo innesto perché purtroppo siamo arrivati un po' corti con la rosa. Però, ripeto, non ci sono giustificazioni. Questi scontri diretti qua in casa ci vuole più cattiveria perché sono punti troppo importanti per la salvezza. Un'ultima domanda. Mai come quest'anno, l'ho detto anche al tuo allenatore, la situazione in coda è davvero una barahonda totale. Quindi diventano fondamentali tutte le partite. Sì, è un campionato veramente strano quest'anno perché squadre che sembravano ormai condannate si sono riprese, stanno facendo punti e la classifica si accorcia sempre di più. Con un filotto di vittorie ti ritrovi nelle zone magari più tranquille e basta un pareggio, una sconfitta e la situazione è complicata. Anche per il Castelmauro, scontro salvezza a Santa Croce di Magliano. Domenica e Biancoverdi hanno aggiunto tre punti preziosi contro il San Martino. Il commento affidato al direttore sportivo. Siamo con Troglio, il direttore sportivo del Castelmauro. Un Castelmauro che è riuscito a recuperare questi tre punti a fine partita. Sicuramente, oggi sono tre punti importantissimi, abbiamo messo molto la classifica con una diretta concorrente. Non abbiamo fatto una grande partita, però forse meritavamo sull'impegno, quindi abbiamo vinto la partita. Una settimana abbiamo fatto sei punti, quindi va bene così. Perché avete fatto comunque il recupero di mercoledì che avete vinto. Il prossimo sabato invece vi scontrerete col Torre Magliano con la quale avete pareggiato nella giornata di andata. Sì, sicuramente domenica andremo là con il piglio di vincere la partita, anche perché anche il Torre Magliano sarà una diretta concorrente per la salvezza. Se giocheremo, sicuramente non dico come oggi, ma come abbiamo giocato mercoledì, sicuramente riportiamo qualche risultato positivo a casa. Oggi però sembrava che aveva perso un po' la concentrazione nella squadra. Sicuramente. Oggi non abbiamo ripertuto la partita di mercoledì. Forse sono due partite troppo vicini, qualche ragazzo era stanco quando si gioca di mercoledì. Però le occasioni, due o tre occasioni da gol l'abbiamo fatta e l'abbiamo mancata. Poi alla fine c'è stato l'Eurogole di Palazzo che ci ha salvato un po' la partita. Perché oggi comunque ci servono i tre punti come loro. Quindi bravo a Palazzo, bravo anche tutta la squadra che oggi ha giocato una discreta partita. In lotta per consolidare il piazzamento play-off, la Boise Elsie domenica farà visita al Cerce Maggiore, l'attaccante Paduano. Fabrizio Paduano dunque è uno 0-0 che, come ho detto in cronaca, fa classifica. Però forse per entrambi serviva magari una vittoria per provare a coltivare questo sogno, tra virgolette play-off. Però diciamo da parte vostra l'inferiorità numerica per oltre un'ora vi ha penalizzato ulteriormente. Si, hai detto benissimo. Inizialmente è ovvio che la voglia di fare tre punti ci stava per entrambe le squadre. Poi ovviamente è rimasta più per loro che per noi. Perché dal momento in cui siamo rimasti in dieci dobbiamo fare di necessità virtù. Era giusto anche un punto che tra l'altro è stato meritatissimo. E infatti è stato così perché poi, paradossalmente, in inferiorità numerica vi siete difesi e addirittura siete riusciti anche a ripartire in qualche occasione. Sì, più che altro è un po' la nostra struttura di gioco difenderci per poi ripartire. Siamo stati bravi anche a sfruttare qualche calcio piazzato un po' pericoloso. Però tutto sommato il pareggio penso che sia il risultato più giusto per la gara che abbiamo visto oggi. Ecco, detto questo, ovviamente lo possiamo dire anche se non è matematico. Però, voglio dire, questa salvezza sembra ormai acquisita. Non voglio fare assolutamente il gufo, però guardando i numeri e l'equilibrio che c'è dietro, una salvezza sembra acquisita. Ve la giocate, voglio dire, in ottica playoff? Io ripeto sempre, è meglio centrare prima la salvezza matematicamente. Ovviamente siamo consapevoli che manca davvero poco. Un bel traguardo che erano queste le ambizioni della società. Ovviamente l'appetito viene mangiando, stiamo giocando bene, stiamo esprimendo un buon gioco. Perché no fare un pensierino ai playoff? Basket di Cisilver è stata recuperata ieri la gara tra NBC e Sulmona, 47-80 il finale. Domani ancora in campo il quintetto bianco-blu si giocherà sempre al Palavazzieri. L'ultima gara del girone di ritorno con il Torres Pess, palla 2 alle 20 e 30. Adesso vediamo che cosa è successo in seconda categoria. Seconda categoria, Gironea, quattordicesima giornata, la Fidelis, Fossa Sceca, 5-1, Longano, Castel di Sangro, 3-3, Miranda, Real Carzares, 1-3, Monte Roduni, Masserie, La Corte, 3-1, Nuovario Nero, New Casales, 3-3, Sporting, La Pietra, Macchia Codena, 1-1, Valle Agricola, Montenero, 2-1. 33 punti, Monte Roduni, a 29 troviamo Fossa Sceca, 26 invece per Montenero e Valle Agricola. Per quanto riguarda la coda della classifica, Longano a quota 6. Girone B, questi risultati, Chiauci, Bagnolese, 3-1, Oratino, Mafalda, 2-1, Rocca Vivara, Mondimitar, 2-0, Sant'Angelo, Castropignano, 2-4, Salcito, Atletico, San Pietro, in Valle, 2-2, Sepino, Torella, del Sannio, 2-3, rinviata Sporting, Torella, la seconda Baranello. Ha riposato il Ferrazzano. 38 Ferrazzano, 36 Chiauci, a 33 troviamo l'Atletico, San Pietro, in Valle. Per quanto riguarda la coda, un punto, il Sepino. Girone C, della seconda categoria, Dax Toro, Campoleto, 2-2, Campo Basso Calcio, Riva Bottoni, 2-0, Guardia Alfiera, Gruppo GSM, 2-4, Mucsufuni, Montagano, Petrella, 0-4, Calena, Casali, Daoni, 1-1, Reds, San Giovanni, Ingaldo, 2-0, Sant'Angelo, Limosano, Real Gambatesa, 3-0. Ha riposato il Matrice. 32 Campo Basso Calcio, 31 Gruppo GSM, a 28 troviamo il Ripa Bottoni, a 27 San Giovanni, Ingaldo. Chiudono la classifica, Matrice con 8 punti e Mucsufuni con 5. Bene, è tutto per questa edizione del nostro TG Sport. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio.